Un caso di divorzio L'avvocato della signora Chassel prese la parola Signor Presidente, signori giudici La causa che ho l'incarico di difendere davanti a voi è di competenza più della medicina che della giustizia e costituisce piuttosto un caso patologico che un caso di diritto comune I fatti di primo acchito sembrano semplici Un uomo giovane e ricchissimo di animo nobile ed esaltato Di cuore generoso si innamora di una fanciulla bellissima più che bella adorabile altrettanto graziosa, altrettanto affascinante altrettanto buona altrettanto tenera quanto bella e la sposa Per qualche tempo egli si comporta con lei da sposo premurosissimo e affettuoso poi comincia a trascurarla, a trattarla male sembra provare per lei una insormontabile repulsione un irresistibile disgusto Un giorno arriva il punto di picchiarla non solo senza nessun motivo ma pure senza nessun pretesto Non starò a dirvi il quadro, signori della corte dei suoi modi strani, incomprensibili a tutti Non vi dipingerò la vita spaventevole di quei due esseri e il dolore straziante di quella giovane donna Per convincervi mi basterà leggere alcune pagine di un diario scritto giorno per giorno da quello sciagurato quel povero pazzo perché è alla presenza di un pazzo che noi ci troviamo, signori della corte e il caso è tanto più curioso tanto più interessante in quanto ricorda la demenza di uno sventurato principe morto recentemente del bizzarro sovrano che regnò platonicamente sulla Baviera in questo caso io lo potrei definire Follia Poetica Voi ricordate tutto quello che si raccontò di quello strano principe e gli fece costruire in mezzo ai più bei paesaggi del suo reame dei veri castelli da fiaba la realtà stessa della bellezza delle cose e dei luoghi non bastandogli egli immaginò, creò, nei suoi inverosimili manieri degli orizzonti artificiali ottenuti per mezzo di artifici da teatro dei cambiamenti a vista delle foreste dipinte dei regni fiabeschi nei quali le foglie degli alberi erano altrettante pietre preziose egli ebbe a sua disposizione delle alpie e dei ghiacciai delle steppe dei deserti di sabbia arsi dal sole e la notte sotto i raggi della vera luna dei laghi rischerati interiormente da fantastiche luci elettriche su quei laghi nuotavano cigni e navigavano navicelle mentre un'orchestra composta dai migliori strumentisti del mondo inebriava di poesia l'anima del palazzo regale quell'uomo era casto quell'uomo era vergine non amò che un sogno il suo sogno il suo sogno divino una sera egli prese con sé nella sua barca una donna giovane e bella una grande cantante e la pregò di cantare lei cantò inebriata e la stessa dal meraviglioso paesaggio dalla tiepida dolcezza dell'aria dal profumo dei fiori e dall'estasi di quel principe giovane e bello cantò come cantano le donne vinte dall'amore poi rapita fremente cadde sul petto del re cercando la sua bocca ma lui la gettò nel lago e afferrati remi tornò velocemente a riva senza curarsi se qualcuno salvava la donna noi signori della corte ci troviamo di fronte a un caso del tutto simile non farò altro ora che leggervi i passi del diario che abbiamo trovato per caso in un cassetto della sua scrivania come tutto è triste e volgare sempre uguale sempre odioso io sogno la terra più bella più nobile più varia quanto povera sarebbe l'immagine del loro dio se il loro dio esistesse oppure se non avesse creato altre cose in qualche altro luogo sempre boschi e boschetti e fiumi che somigliano ai fiumi e pianure che somigliano alle pianure tutto è simile e monotono e l'uomo l'uomo che orribile animale cattivo orgoglioso ripugnante bisognerebbe amare amare follamente senza vedere ciò che si ama perché vedere e comprendere e comprendere è disprezzare bisognerebbe amare inebriarsi di lei come cicinebria di vino così da non sapere più che cosa si beve e bere 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 senza riprendere fiato giorno e notte credo ad aver trovato lei ha in tutta la persona un che di ideale che non sembra terreno e che dà ali al mio sogno ah il mio sogno mi mostra diversi gli esseri da come sono lei è bionda di un biondo lieve con capelli corsi da indefinibili sfumature i suoi occhi sono azzurri soltanto gli occhi azzurri rapiscono il mio animo tutta la donna la donna che viva in fondo al mio cuore mi appare negli occhi soltanto negli occhi oh mistero quale mistero gli occhi tutto l'universo è negli occhi perché gli occhi vedono l'universo lo riflettono contengono l'universo le cose e le creature le foreste e gli oceani gli uomini e le bestie i tramonti le stelle le arti tutto e si vedono raccolgono e portano via ogni cosa e c'è anche di più negli occhi c'è l'anima c'è l'uomo che pensa l'uomo che ama l'uomo che ride l'uomo che soffre oh guardate gli occhi azzurri delle donne quelli che sono profondi come il mare mutevoli come il cielo così dolci dolci come la brezza dolci come la musica dolci come i baci e trasparenti così chiari che lo sguardo li traversa e vede l'anima l'anima azzurra che li colora che li anima che li rende simili a divinità sì l'anima ha il colore dello sguardo solo l'anima azzurra porta in sé il sogno e ha tolto il suo azzurro alle onde e allo spazio gli occhi pensate agli occhi gli occhi gli occhi bevono la vita apparente per nutrirne il pensiero bevono il mondo il colore il movimento i libri i quadri tutto ciò che è bello e tutto ciò che è brutto e lo traducono in idee e quando ci guardiamo ci danno la sensazione di una felicità che non è terrena ci fanno presentire ciò che ignoreremo sempre ci fanno capire che le realtà dei nostri sogni sono delle sprecevoli sozzure io l'amo anche per il suo passo anche quando l'uccello cammina si sente che ha le ali ha detto il poeta quando lei passa si sente che è di una specie diversa dalle altre di una specie più leggera e più divina la sposo domani ho paura ho paura di tante cose due bestie due cani due cani due lupi due volpi si aggirano per i boschi e si incontrano uno è maschio l'altro è femmina si accoppiano si accoppiano per un istinto bestiale che li costringe a continuare la specie la loro specie quella che dà loro la forma il pelo la statura i movimenti e le abitudini tutte le bestie fanno altrettanto senza sapere perché anche noi è questo che io ho fatto sposandola ho obbedito a quell'impedo imbecille che ci spinge verso la femmina lei è mia moglie finché l'ho desiderata idealmente lei fu per me il sogno inattuabile che sta per attuarsi dall'istante stesso in cui io l'ho tenuta fra le mie brazza lei non è stata più se non l'essere di cui la natura si è servita per ingannare tutte le mie speranze le ha lei ingannate? no e tuttavia io sono stanco di lei stanco al punto di non poterla più toccare né sfiorarla con la mia mano o con le mie labbra senza che il mio cuore sia sconvolto da un disgusto inesprimibile forse non il disgusto direi ma un disgusto più alto più grande più sprecevole il disgusto dell'amplesso amoroso così vile che è diventato per tutti gli uomini raffinati un atto vergognoso che bisogna nascondere di cui si parla a voce bassa arrossendo non posso più vedere mia moglie venirmi incontro chiamarmi con un sorriso o con lo sguardo o con le braccia non posso più credevo allora che un suo bacio mi avrebbe trasportato in paradiso un giorno lei si ammalò di una febbre passeggera e nel suo fiato io sentì il soffio leggero sottile quasi inafferrabile della putredine umana ne fu sconvolto oh la carne seducente vivente letamaio putredine che cammina pensa parla guarda sorride dove gli elementi fermentano e che erosea bella tentatrice ingannatrice come l'anima perché soltanto i fiori hanno un profumo così buono e i grandi fiori ora splendenti ora pallidi i cui toni le cui sfumature fanno fremere il mio cuore e turbano i miei occhi sono così belli di così fine struttura così varie così sensuali socchiusi come organi più tentatori delle bocchie e incavati con labbra arrotondate dentellate carnose cosparse di un seme di vita che a ciascuno di essi dà un profumo diverso soltanto i fiori essi soli al mondo si riproducono senza contaminazione per la loro inviolabile specie bandendo intorno a sé il divino incenso del loro amore l'odoroso sudore delle loro carezze il profumo dei loro corpi incomparabili dei loro corpi adorni di tutte le grazie di tutte le eleganze di tutte le forme e hanno la civetteria di tutte le colorazioni e la seduzione inebriante di tutti i profumi frammenti scelti sei mesi dopo amo i fiori non come fiori ma come creature materiali e squisite passo le mie giornate e le mie notti nelle serre o ve li nascondo come donne negli harem chi all'infuori di me conosce la dolcezza la pazia l'estasi fremente carnale ideale sovrumana di queste tenerezze e quei baci sulla carne rosea sulla carne rossa sulla carne bianca miracolosamente diversa delicata rara fine morbida dei mirabili fiori ho delle serre nelle quali nessuno entra all'infuori di me e di colui chi accura dei fiori entro in quelle serre come si entra in un luogo di piacere segreto nell'alta galleria di vetro io passo dapprima fra due schiere di corolle chiuse socchiuse o sbocciate che salgono in pendio da terra fino al tetto è il primo è il primo bacio che mi mandano i fiori i fiori che adornano quel vestibolo delle mie misteriose passioni sono i miei servi e non i miei favoriti mi salutano mentre io passo con il loro splendore canzante e con le loro fresche esalazioni sono minuti civettuoli schierati su otto fili a destra e otto a sinistra e così fitte che sembrano due giardini che scendono fino ai miei piedi il mio cuore palpita il mio occhio si accende a guardarli il sangue mi si agita nelle vene la mia anima si esalta e le mie mani già fremono dal desiderio di toccarli vado avanti tre porte si aprono in fondo alla galleria posso scegliere ho tre harem ma il più delle volte entro dalle orchidee le mie addormentatrici predilette la loro camera è bassa soffocante l'aria umida e calda fa madi dalla pelle mette un ansimo nella gola e un tremito nelle dita vengono queste strane fanciulle dai paesi acquitrinosi bruciati e malsani sono seducenti come sirene mortifere come veleni meravigliosamente bizzarre irritanti spaventose ecco alcune che sembrano farfalle con ali enormi zampe sottili occhi perché le orchidee hanno certi occhi mi guardano mi vedono creature prodigiose inverosimili fatate figlie della sacra terra dell'aria impalpabile e della luce calda questa madre del mondo sì esse hanno ali e occhi e sfumature che nessun pittore sa imitare hanno tutte le grazie tutti gli incanti tutte le forme immaginabili il loro fianco si incava odorosa e trasparente schiuso all'amore e più tentatore che tutta la carne delle donne i disegni impensabili dei loro piccoli corpi trasportano l'anima inebriata nel paradiso delle immagini e delle volutà ideali esse tremano sui loro gambi come per spiccare il volo stanno esse per volare venire a me no è il mio cuore che vola sopra di loro come un maschio mistico e torturato dall'amore nessun'ala di bestia può sfiorarle siamo soli esse ed io nella chiara prigione che ho edificato per loro le guardo le contemplo le ammiro le adoro ad una ad una come sono grasse profonde rose di un rosa che inumidisce le labbra di desiderio come le amo l'orlo del loro calice arricciato più pallido della loro gola e la corolla vi si nasconde misteriosa bocca attraente dolce al sapore mostrando e a un tempo celando gli organi delicati mirabili e sacri di queste divine creaturine che spandano profumo e non parlano io sento talvolta per qualcuna di esse una passione che dura quanto dura la sua stessa esistenza alcuni giorni alcune sere la faccio togliere allora dalla galleria e portare in un piccolo locale circondato da vetri dove un filo d'acqua mormora davanti a un letto di erbe tropicali portate qui dalle isole del grande pacifico e io resto vicino a lei ardente febbricitante e tormentato sapendo che essa presto dovrà morire sognando il suo lento appassimento mentre io la possiedo e aspiro e bevo e colgo la sua vita brevissima in un'esprimibile carezza terminata la lettura di quei frammenti l'avvocato continuò signori giudici la decenza mi vieta di continuare a comunicarvi le singolari confessioni di questo pazzo vergognosamente idealista i frammenti che ho letto basteranno io credo a valutare questo caso di malattia mentale meno raro di quanto si creda in questa nostra epoca di isterica demenza e di corrotta decadenza ritengo dunque che la mia cliente ha più diritto di qualsiasi altra donna di chiedere il divorzio nella situazione eccezionale in cui la pone lo strano smarrimento sensuale di suo marito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti